Occhio ai giornali di lunedì 28 giugno, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del digitale terrestre, visibile in tutta la regione Marche, c'è Fano TV con Occhio ai giornali che è l'appuntamento dell'informazione del mattino, dove noi abbiamo selezionato già le prime pagine dei giornali e alcune pagine interne per raccontarvi un po' quelli che sono i fatti più importanti e lo faremo tra pochissimo non prima però di aver visto il santo di oggi, oggi la Chiesa Cattolica ricorda Sant'Ireneo e poi il tempo che andremo a vedere tra un istante, intanto vi dico che l'alba è alle 5.26 e poi il tramonto alle 20.57 quindi già cominciano ad accorciarsi, ma non lo diciamo, i giorni, andiamo a vedere il tempo si può accorciarsi più che i giorni insomma alle ore di luce, ma comunque i prossimi giorni sono di gran caldo secondo trebimeteo.com, ma anche qualche temporale, localmente forte, ma noi nelle Marche non ci interessa granché, diciamo che il gran caldo intenso è limitato al centro-sud e non alla nostra regione, vedete la grafica ma i temporali invece al nord, noi siamo in una fase, in una fascia diciamo dove è caldo certamente e purtroppo non piove, questo è il problema perché se andiamo a vedere poi nel dettaglio ma più che dettaglio guardiamo tutta l'Italia, questa è la situazione a mezzogiorno di oggi poi alle 18 e stasera, domani stessa cosa, sono giornate fotocopia con a parte qualche temporale domani mattina sulle Alpi, per il resto ma poi comunque sono temporali estivi, localizzati a volte come dicevo appunto anche forti, ma nella nostra regione non piove, non pioverà e questo chiaramente preoccupa per la questione della siccità. Oggi iniziamo una nuova settimana iniziamo con il presentarvi il nostro nuovo ospite che ci darà qualche informazione anche sul tempo, sulle condizioni meteomarine, abbiamo un nuovo ospite, anzi una ospite perché questa volta per la prima volta ospitiamo una donna e quindi mi collego con la spiaggia Mare Mio di Senigallia dove c'è Laura Tamburini, buongiorno Laura, buongiorno e benvenuta a Occhio ai giornali a Faro TV. Allora Laura Tamburini sei la figlia della titolare di questa spiaggia che tra poco conosceremo anche grazie a questi collegamenti che ci tranno compagnia fino sabato Allora dici intanto dove ti trovi? Beh insomma si può già immaginare Sì, noi siamo a Senigallia e praticamente siamo a ridotto della rotonda mare E la rotonda ecco si abbassa un pochettino appena appena il cellulare riusciamo a vederlo in tutto il suo splendore, ecco c'è una bassa marea questa mattina, vedo qualche avventore già insomma il mare che è sempre molto molto bello. Allora ci fai vedere anche un pochettino la spiaggia, la tua concessionaria, insomma vediamo un po' Allora la mia concessione ecco praticamente sono circa 34 metri lineari quindi non è una concessione enorme abbiamo un piccolo chiosco dove si può mangiare, fare aperitivi, fare colazione e così si passa la giornata al mare ecco Questo diciamo durante le ore di sole ma se andiamo a vedere con il giornale la pagina e la cronica di Senigallia di oggi, siamo sul Corriere Adriatico il titolo è SOS, ragazzi ubriachi sul lungomare, una notte di caos, danni e soccorsi una cabina sfondata, i bagni mare a Marta Perini dice prenderò un vigilante poi un ventenne è stato trovato con la cocaina e con l'ascis La polizia impegnata in questi giorni, in zona rotonda gli agenti hanno fermato tre giovani turisti che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi sono stati bloccati e uno di loro, scrive Sabina Marinelli questa mattina sul giornale un ventenne Umbro è stato trovato in possesso di cocaina e ascis segnalato in prefettura eccetera eccetera Allora è la situazione davvero così, Laura, così difficile? Sì, la situazione è difficile ma non quest'anno, questo è un problema che esiste da diversi anni purtroppo ci sono pochi controlli dalle forze dell'ordine sulla piaggia e i ragazzi si credono liberi di poter fare quello che vogliono perché non c'è un controllo vero e proprio io personalmente sono anni che ho un vigilante di notte che mi arriva alle 10 e mi va via alle 3 della mattina quando arriva l'addetto alla polizia e quindi praticamente fino alle 9 ci siamo noi la sera alle 21, alle 22 arriva il vigilante e poi la spiaggia è sempre presidiata da qualcuno Ma come mai, Laura, scusami, come mai vengono, cioè tutti questi giovani si trasferiscono in spiaggia? Che succede? Si trasferiscono in spiaggia perché sono fuori dall'occhio delle forze dell'ordine e quindi si credono liberi di poter fare quello che vogliono perché qui è più buio rispetto alla strada prendono i lettini, magari ne mettono 5-6 lettini vicini, si siedono tutti insieme e poi bevono, fumano e fanno tutto ciò che vogliono fare liberamente perché sanno che possono farlo visto che le forze dell'ordine quelle poche volte che io le ho chiamate l'anno scorso anno per il fatto che noi comunque dobbiamo sanificare i lettini per via del covid e poi i ragazzi di notte entrano e fanno quello che vogliono e mi fa molto tutta la sanificazione e quando li chiami le forze dell'ordine la maggior parte delle volte fa allontanare i ragazzi e finisce lì Ho capito Allora Laura, intanto grazie Sul tempo non ti chiedo niente perché tanto abbiamo già detto che sarà bello quindi va bene così Allora ci vediamo domani mattina, grazie e buon lavoro Va bene, grazie a voi, buona giornata a tutti I titoli, andiamo a vedere ancora i titoli della prima pagina del carrino di Pesolo come dicevamo la Movida, non solo Senigallia ma anche se qui poi non vengono registrati danni agli stabilimenti ma comunque la Movida da brividi questo è il titolo della fotonotizia di oggi in Viale Trieste, Sottomonte, folle di ragazzi tanti già senza mascherina a proposito di mascherine vi ricordo che oggi in tutta Italia un'Italia colorata di bianco all'aperto dove ci sono le condizioni si potrà evitare non c'è più l'obbligo di mascherie Allora, fascia invece, parliamo di vaccini 20-39 anni vaccinati solo la metà in provincia, ovviamente quella di Pesaro-Urbino sono 32.500 ovvero il 45% basse le prenotazioni over 60, da oggi iniezioni anche nelle farmacie comunali poi una spaccata in banca ma con zero bottino è giallo sugli autori banditi, vandali oppure semplicemente un ubriaco è stata colpita la filiale di Intesa in Via degli Abiti a Pesaro Ancora, Fondazione Carifano rinnovato il Consiglio molti sono universitari ma c'è poca rappresentanza dell'imprenditoria locale Tribunale verso la Luce presto via le transenne entro il prossimo anno dunque il Tribunale di Pesaro sarà liberato l'evento sabato prossimo Italservice alla palla la festa per lo Scudetto Corriere Adriatico edizione di Pesaro Movida nuova rissa a Levante il titolo alcol a fiumi e malore in spiaggia intervengono le forze dell'ordine anche in Viale Trieste rabbia degli operatori orde di ragazzini sfrenati noi non possiamo riuscire a governarli dicono a centropagini invece su tutte le edizioni il campione di salto in alto forza Gimbo non smettere di crederci ora ha saltato soltanto due metri e ventiquattro si sfoga sui social una frase una frase che indica come il suo stato d'animo sia davvero a terra una frase shock così la definisce il Corriere forse scrive lui sono semplicemente un illuso Salta Martini invece variante delta stringeremo il tracciamento mentre sotto fallisce la spaccata banca intesa le piste ora al vaglio al vaglio degli inquirenti mentre numeri da capogiro per la corsa contro la violenza di genere e schianto a Mondolfo la bimba di 12 anni resta ricoverata al Salesi ferrovia e pista ciclabile invece non possono coesistere Tarsi Pierpaoli di Fratelli d'Italia soddisfatti per la chiarezza emersa lo stabilisce la legge riammissione in serie C grande attesa oggi per le sorti del Fano allora coronavirus la mutazione del virus ma che cosa succede oggi da oggi attenzione alle nuove regole le andiamo a vedere grazie a questo grafico del Corriere Adriatico l'Italia come dicevamo diventa un'unica zona bianca dove si potrà stare all'aperto senza mascherine ma attenzione perché mascherine dovranno essere sempre a portata di mano secondo infatti le indicazioni della CTS il Comitato Tecnico Scientifico vanno indossate al chiuso e all'esterno in situazioni di assembramento resta obbligatorio invece l'uso delle mascherine nei locali al chiuso quindi bar ristoranti negozi centri commerciali quando si entra in un negozio bisognerà indossarla stessa regola per chi va nei centri commerciali poi se si sta al chiuso si può togliere la mascherina solamente quando si è seduti al tavolo per consumare cibi o bevande mentre bisogna indossarla quando per esempio si va alla toilette oppure si va alla cassa a pagare i camerieri invece quindi dipendenti di bar e ristoranti devono anche se lavorano negli spazi all'aperto comunque utilizzare sempre la mascherina il titolo invece è il pressing di Saltamartini sulla variante stringere le maglie del tracciamento l'assessore dice un'ipotesi un'ipotesi potrebbe essere quella di svolgere dei tamponi a chi riceve il vaccino negli hub il caso AstraZeneca abbasserà a 11.000 dosi al giorno la potenza delle marche dunque c'è anche questa ipotesi dice per esempio quella di fare tamponi a tutti coloro che si recano a fare il vaccino per individuare più asintomatici possibile il tema della diffusione della variante delta si intreccia strettamente con quello della rimodulazione del piano vaccini per effetto delle nuove disposizioni sulle dose AstraZeneca e quindi vedremo se questa disposizione cioè vai a fare il vaccino e contestualmente fai anche il tampone perché così evitiamo visto che ci siamo facciamo anche questa ulteriore verifica in più che consente di individuare appunto i positivi magari quelli asintomatici intanto il post covid sul Corriere di oggi non solo fiatone ma c'è anche un problema di sonno di depressione anche alla muscolatura bisogna resettare praticamente tutto il corpo dice Alessandro Brizzi intervistato dal Corriere 48 anni da settembre del 2019 responsabile dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione percorso ictus dell'ospedale di Iesi il primario dice si può vincere ma serve tanta costanza mentre sull'altra pagina torniamo ecco andiamo sull'altra pagina del Corriere perché si parla appunto di Movida Movida a Pesaro e alcol a fiumi Movida incontenibile a Levante ci scappa un'altra rissa un'altra sabato sera di caos sul lungomare una rissa a Levante fra i locali della zona e l'ingresso allo stabilimento spiaggia 27 assembramenti schiamazzi fino alle 3 del mattino al centro dell'isola pedonale di Viale Trieste fra gli hotel e i chioschi dove per monitorare il deflusso è stato attivato un presidio fisso della polizia locale gli operatori sono arrabbiati dicono in Viale Trieste questi ordi di ragazzini sfrenati non riusciamo a governarli poi tanto per chiarire il clima che regna nelle notti della Movida pesarese dice sei vecchio se no ti avevo ammazzato ecco tanto per dire come sono i dialoghi tra i giovani che vogliono divertirsi a tutti i costi e quelli che invece vorrebbero un pochettino dormire soprattutto alle 2 di notte ricordiamo ai giovani che la notte forse dirò una cosa che li sconvolgerà ma è bene ricordarlo la notte è fatta per dormire e non per andare a fare confusione in giro schiamazzi in giro la notte è fatta per dormire alle 2 di notte bisognerebbe essere a dormire e non a fare caos o confusione sotto gli alberghi e poi pretendere anche di aver ragione questo è il problema ma il mondo ormai sappiamo va al contrario va alla rovescia quindi di notte si va a far casino e di giorno invece si dorme loro infatti si vede sono tutti zombie al mattino musica spenta ma la movida impazza le mascherine via con un giorno di anticipo viaggio notturno nel quadrilatero dei locali più affollati di Viale Trieste i bodyguard controllano come possono i gruppi di ragazzini ma insomma anche se sono bodyguard è chiaro che quando tutti praticamente si comportano allo stesso modo un bodyguard può fare poco o nulla e nel frattempo come scrive anche la Monticelli sul giornale insomma le proteste montano soprattutto come dicevo da parte degli albergatori da parte dei turisti che insomma poi programmano il giorno dopo magari la loro vacanza per la quale hanno pagato perché chi sta lì in albergo non è che ci sta gratis paga e vorrebbe anche un pochettino stare tranquillo dormire eccetera eccetera vaccinazioni la spinta è finita manca all'appello il 55% dei giovani siamo di nuovo sul Carlino vuoto o quasi vuoto ieri l'ex Ristò a Pesero via libera solo ai richiami si sono anche presentati decine di turisti la fascia d'età meno presente è quella tra i 20 e i 39 anni hanno risposto di più invece tra i 40 e i 59 anni poi i vaccini in farmacia invece oggi si parte da via Giolitti ci sono già prenotate 24 persone il prossimo via libera anche a Soria l'altro quartiere pesarese la pagina di Urbino invece oggi Eugenio Gulini ha intervistato il professor Gianitolo Bischi che spiega un po' il funzionamento la storia il funzionamento dei modelli matematici anche perché Bischi è professore ordinario di metodi matematici dell'economia alla Carlo Bodi Urbino e spiega appunto come i modelli matematici applicati al COVID-19 funzionano però sono utili però bisogna come sempre usarli con cautele poi odori sempre da Urbino odori fastidiosi per tenere lontani dalle case i cindigiali trattamenti al via oggi anche per le zanzare tigre quindi via la mascherina ma a Urbino probabilmente bisognerà mettere la maschera antigasa a questo punto cambiare un po' strategia perché con tutti questi sia la maschera per l'antizzanzara poi gli odori per scacciare con questa misura odorifera che è innocua per le persone per carità però insomma ecco poi al via invece l'altra notizia alle 9 la scuola di chimica farmaceutica favorisce l'incontro tra ricerca e industria oggi dibattito anche sul covid poi da Fano invece Fano lo ricordiamo oggi sono gli inserti sportivi quindi sono poche sono di meno insomma le pagine che riguardano le pagine della città quindi Fondazione Carifano ondata di nuovi soci questo è un articolo dove si fa resoconto di quello che è successo ieri mattina in fondazione a Fano ieri mattina ci sono state queste nomine in un solo caso si è dovuto ricorrere ad una seconda votazione il presidente Gragnola ha illustrato poi il bilancio del 2020 allora sotto la guida del presidente Giorgio Cagnola e Gragnola presenti circa la metà dei consiglieri quindi molte delega è arrivato anche l'atto formale con le votazioni nel consiglio generale è entrata Mirella Montalbano che è dirigente del consorzio di bonifica e figlia di un ex dirigente del commissariato e poi per quello che riguarda invece i soci in scadenza sono stati rinnovati Antonio Laccetera medico e quindi Rodolfo Colarizzi altro personaggio molto conosciuto in città con un passato come giornalista scientifico poi invece di nuova nomina Luigi Bartolini Francesca D'Addio ricercatrice a Milano Anna Falcioni degli studi malatestiani Paola Giovanelli che fa parte dell'associazione letteraria quindi Mattia Tarsi che dopo aver lasciato il mondo della politica da anni è il direttore commerciale di Mastcafè l'impresa guidata da Marco Nava genero di Corrado Montanari quindi è diventata socia della fondazione Antonella Scarcelli medico gastroenterologo di Marche Nord la quale però per entrare in qualità di socio ha avuto bisogno di due votazioni ora e poi ci sono tutte altre informazioni che potrete leggere in questo articolo pubblicato sul Carlino Edizione Pesarese la pagina invece di Fano del Corriere l'assessora interrompe un furto un furto un furto antipatico se vogliamo non è questione di soldi di valore e quant'altro ma è un furto antipatico a Fano purtroppo ma così anche a Pesaro probabilmente così capita dappertutto ma comunque a Fano non è la prima volta l'assessore ha interrotto il furto di una donna che stava rubando dei fiori da un'aiuola Barbara Brunori riporta l'ordine e il decoro in città presto annuncia l'assessore arriveranno anche le telecamere alla rocca era in imbarazzo ma non si è scusata parco di Poderino sistemato dopo i vandalismi ricordo come ricordo un episodio qualche anno fa parecchi anni fa un sconsolato un imprenditore locale mi ha telefonato dicendo che era esasperato dal fatto che lui nelle sue aiuole metteva questi fiori queste piante e poi puntualmente qualcuno passava a rubargli e allora aveva pensato di metterci attaccato alle radici di questo fiore di questa pianta un finto serpente una finta biscia tanto per fargli passare 5 minuti di spavento non so se poi abbia fatto questo scherzetto ma comunque questo per dirvi che non è un episodio sporadico purtroppo c'è gente che campa così rubando fiori dai cimiteri dalle tombe dai giardini pubblici ed è anche per questo che a Fano non c'è la volontà di abbellire le vie le strade con i fiori uno perché vanno annaffiate quindi non è sempre facile c'è del lavoro dietro ma anche perché spesso poi ci sono queste persone che vengono prese con il fiore nel sacco che ci vuoi fare poi neanche si scusano ciclabile e tratta inconciliabili qui siamo sulla pagina di Fano del Corriere del Riatico lo dice la legge fine del tema Fratelli d'Italia elogia la chiarezza fatta su questa vicenda quindi l'ex ferrovia Fanurbino non può avere la ciclabile cioè la ciclabile la tratta non sono non possono coesistere e quindi stop fine dei discorsi TSO al ragazzo invece auspici dissente dalla denuncia per i due reati deve rispondere di interruzione di pubblico servizio e di minacce sotto servizi sociali ora più qualità e qualità quantità e qualità tinti l'assessore sul coinvolgimento del terzo settore nella nuova organizzazione d'ambito andiamo sulla pagina di sport per chiudere la nostra rassegna del mattino Fano oggi è un giorno importante per la riammissione in serie C basta una sola rinuncia tra le 51 squadre aventi diritto per ritornare in Lega Pro dunque dopo la giornata di oggi si inizierà ad avere qualche elemento in più per definire il futuro dell'Alma che guarda con grande interesse alla scadenza dell'iscrizione alla serie C per 51 delle 60 società aventi diritto ed in particolare del Catania le altre nove ovvero le promosse dalla serie D avranno infatti tempo fino al 5 luglio e comunque le loro mosse non incideranno sulle sorti sulle sorti dei Granata quindi bisognerà vedere soprattutto quelle che rinunceranno già dalla serie C a rimanerci Fenati quindi parliamo di moto terzo ad Assen per Rossi invece un altro stop il pilota Ascolano ora è al quarto posto nella classifica iridata della moto 3 Baldassari e Morbidelli erano assenti per un infortunio Luca Marini solo diciottesimo mentre l'ultima pagina è quella che riguarda il nuotatore Filippo Magnini che purtroppo non andrà alle Olimpiadi di Tokyo Magnini si arrende Sabbioni vede Tokyo Rimagno felice lo stesso lui dice ho fatto il massimo molto bene anche Turchi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa Occhio giornali torna domani mattina come sempre alle 7 stasera invece alle 20.30 il telegiornale Occhio alla notizia con le notizie del giorno a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci